Lucca gustosa, tre giorni dedicati all'enogastronomia in tutta la città. Si tiene oggi l'ultima giornata di eventi della rassegna che il comune di Lucca ha voluto dedicare al gusto e al palato. Dalle degustazioni in piazza anfiteatro al mercato dei prodotti tipici in piazza Napoleone, dal gusto per il fumo del sigaro toscano alle proposte particolari all'interno dell'atelier Ricci. E ancora visite guidate a tema culinario in giro per la città, con un clou, quello che si è avvissuto a Real Collegio, con il meglio delle etichette vinicole di anteprima vini della costa toscana, che è stata abbinata all'edizione zero della rassegna condimenti, con il direttore artistico Cristiano Tomei e la partecipazione dello chef Damiano Carrara. Un percorso che ha coinvolto gran parte della città e per cui nel 2024 è già in cantiere un'edizione ancora più ricca di iniziative.